Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Poi in quel momento lontanare, ma sempre l'atmosfera combinata, non tagliata, ma lui è giusto, è trovato lui, il mio territorio di chi, sempre combina. Il momento base, più largare, più lungare, poi a terra, tre movimenti, mobilizzazione per con tre movimenti, non fermo, lontanare, lungare e direzione artista. Poi qui ci sono puntati di spada, manco di... Poi come io, poi naturalmente io, senza tagliare. Perchè nel suo tempo mazzo, se questo giù nel suo tempo piedi, questo piede deve avanzare più di quella piede. Occhi deve guardare. Poi, qui ci sono puntati, non qua. 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 con spada, che da qua. Allora... Ehm... Con movimento o con spada, non vedere. Non si vede, ma c'è spanna. Comuniano. Un giappone... E il Deo ha trovato dove non... non pensare questo heyonn granted fatto dopo di teoli più di teoli. Oye. Il suo corpo come mia spada deve praticare come questo, è sempre detto, no? Base di tecnica di mentale, arco. Se prepara bene spinto e corpo, tecnica di arco, allora freccia sempre per salio ad accadere. Entrare bene. Se pensa a toccare bene bene, allora lo dico. Lugare. Eh? Poi qui, allora questo, interno circolare. Allora qui c'è spada, allora punta di spada esterna. Linea di occhio così. Poi qua, di scuola. Eh? Poi, poi, poi. Poi, ora le facciamo in pieno. Qua, cliccato non c'era. Eh? Eh? Questo adesso lo faccio in cielo. Eh? Poi, qui. Allora questo dentro di mio cuore, lui entra. Eh? Fargo anche così. e piedi così, gambo, e forma di mano, poi, poi qua, usare questo, così, 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 poi, qualche volta morta, no, a giù, da sotto il braccio suo, viene a venire, naturalmente questo rovescia, parla di mano, parla di mano, su, poi, 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 poi se lui diritto, allora, attacca, no, 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 naturalmente, passi, così, oh, mette le ginocchio, tira, ardale, spalla, puntato, braccio, poi, cambiò, formati, questa mano, a poter, occhi, oprire il vino piedi, dove, guarda, lui è entrato mio dentro di fuo, Grazie. 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 Allora, se bravcio deve sentire questo momento. Movimento di... Come movimento di muscoli anche sentire. Anche! Girato giù, venuto girato, anche il mio braccio, tutto cercere, così, questo braccio, stringere interno, stringere esterno, in primo momento. Anche i ginocchi, fissare, sentire così, tutta parte di... Molto imporant, SLT, ci sono. L'enso e è, anzi, o danso. E, l'e, l'è, l'e, l'è, l'è. E, l'è, 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 l'è. Hai, ultimo, ho chiude, seduzi. Par, il mio giusto, par, sono. Hai, anzi, o danso. Grazie mille 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 Grazie mille